Vigonza, vigili derisi e offesi, il sindaco Nunzio Tacchetto annuncia che saranno presi i provvedimenti contro chi ha criticato l'operato degli agenti. Negli ultimi giorni, su alcune pagine Facebook dedicate alla comunità di Vigonza, girano foto e commenti che prendono di mira gli agenti municipali, accusati di fare appostamenti senza cartelli o segnali di preavviso allo scopo di fare cassa. I commenti sono al limite della calugna, dice il sindaco, perché risultano essere offensivi e lesivi della reputazione del comando di Polizia Municipale. Per questo presto potrebbero scattare le denunce.